Questo progetto è una di quelle esperienze lavorative legate al cuore, perché sono quelle cose che si fanno per amore della professione, per amore verso gli amici. Francesca Fellini in questo caso, che mi ha coinvolto in questa bellissima avventura e quando mi ha parlato di questo progetto ho accettato con grandissimo piacere, perché io dirigo la Sartoria Farani, che è una sartoria che è diventata famosa grazie alla collaborazione con Danilo Donati, perché Danilo Donati è subentrato nell'universo Fellini dopo Gerardi, che ha firmato la prima parte, quella forse, non dico più, più famosa, però insomma la dolce vita, 8 e mezzo eccetera eccetera. Alla morte di Gerardi è subentrato Danilo che dal satiricon in poi ha curato i costumi, per cui in questo caso, in questo bellissimo lavoro di Francesca, io ho portato il costume di Marcello Mastroianni di intervista, il costume del mago, che quasi per miracolo calzava a pennello al grande Marescotti e poi il costume per Milena Vukotic, che è un piccolo particolare che nessuno nota, ma a me fa piacere che la maglietta righe che indossa Milena sia una maglietta originale dei clown di Fellini. Io lavoro nella Sartoria Farani, l'anno prossimo sono 40 anni e ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi costumisti come Franca Squarciapino, come Lele Luzzati e Danilo Donati, per cui io mi ricordo che quasi balbettavo quando l'ho incontrato la prima volta, un genio. Io dico sempre che il lavoro di Donati è stato la sintesi tra altri due grandissimi costumisti che sono stati Piero Gerardi e Piero Tosi. Donati ha fatto una sintesi tra i due, diciamo che ha creato un modo di fare costume che era la linea, la silhouette, quella che viene chiamata nel nostro ambiente, perfettamente realistica, però lui ha apportato l'uso di materiali assolutamente desueti. Li creava i materiali, lui infatti è diventato famoso per le materie, per il Casanova di Fellini ha ricreato un settecento completamente inventato. Tutto quello che normalmente viene fatto con i pizzi, con i volant, lui li ha fatti con delle materie, sfrangiando dei tessuti. Infatti per quel film ha vinto il suo secondo Oscar. Era un genio dell'invenzione e questa per me è stata una scuola grandissima. Lui diceva devi dare un segno a quel film, per cui deve rimanere nel cervello dello spettatore un segno, un segnale. Infatti a ben guardare tutti i film che lui ha realizzato sono legati da un minimo comune denominatore.